Le palle inattive nel calcio si riferiscono a situazioni di gioco in cui il pallone è fermo, come calci di punizione, calcio d'angolo, calcio di rigore, rinvii dal portiere e rimessa laterale. Queste situazioni sono definite inattive perché il gioco viene interrotto e la palla deve essere rimessa in gioco tramite una procedura specifica. Tuttavia, ci sono anche le palle inattive a favore, che sono quelle situazioni in cui la squadra che ha il possesso del pallone ha la possibilità di sfruttare queste situazioni per creare occasioni di gol o per segnare direttamente. Queste situazioni sono solitamente considerate molto importanti nel calcio, in quanto possono cambiare il corso di una partita e determinare il risultato finale. Ad esempio, un calcio di punizione o un calcio d'angolo possono essere utilizzati per creare una situazione favorevole in cui un attaccante della squadra che ha il possesso del pallone può colpire il pallone in modo da segnare un gol. Inoltre, un calcio di rigore può essere utilizzato per segnare direttamente un gol, mentre un rinvio del portiere o una rimessa laterale possono essere utilizzati per creare occasioni di gioco. Le squadre spesso lavorano sulla tattica e sulla strategia per sfruttare al meglio queste situazioni di gioco, cercando di creare disorientamento nella difesa avversaria e di creare spazi per i propri attaccanti. In generale, le palle inattive a favore sono un'importante componente del gioco del calcio, in cui la capacità di sfruttare al meglio queste situazioni può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. in generale, le palle inattive a favore sono un'importante componente del gioco,